La prima tappa alla vuelta, subito all'attacco, in pieno stile Benedetti. Sì, diciamo che oggi uno degli obiettivi della squadra era quello di andare in fuga per conquistare la prima maglia, il primo GPM, insomma. Però non ha funzionato, insomma. Diciamo che non ho sbagliato niente, ho sbagliato, sono partito nella volata per campare la montagna con un rapporto forse troppo agile e mi sono fregato lì, insomma. Come ti sentite comunque con le sensazioni, essendo il secondo grande giro dell'anno? Ma da quel punto di vista lì bisogna rivedere nelle prossime tappe. Ho recuperato bene dopo il tour, ho lavorato bene e per cui penso che la condizione sarà buona durante questa corsa. Per quanto riguarda oggi la tappa, tutto sommato, è stata abbastanza facile, per cui è difficile dire che condizione c'è. Ero davanti, per cui tanto male non stavo, però le tappe dure saranno altre.